Beh, sì, qualcuno di voi mi dirà, ma Poderak, perché hai messo Alexa dentro il presepe? Il problema è che in realtà è il presepe che si è messo sopra Alexa. Alexa, lì stava, lì, e ho dovuto mettere il presepe... La lista di cose da fare è vuota. Ok, grazie. Ecco, questo è uno svantaggio di Alexa dentro il presepe, non gli puoi spegnere il microfono quando tu dici Alexa. Vabbè, però c'è un vantaggio, il vantaggio è che puoi trasformare quello che vuoi in smart. Possiamo dire, Alexa, accendi presepe. E abbiamo il presepe smart, fighissimo. Che cosa faremo oggi? Ve lo faccio dire direttamente da lei. Alexa, video di oggi. Oggi Poderak spiegherà come farmi dire frasi personalizzate. Mettetevi comodi e non dimenticatevi di mettere un bel mi piace ed iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video di me. Ebbene sì, sono arrivate le frasi personalizzate. Abbiamo modo di fargli dire qualsiasi cosa noi vogliamo. Infatti, nel routine, oltre ad aggiungere le frasi personalizzate, hanno anche aggiunto il timer di ritardo. Tante funzionalità che man mano rendono Alexa sempre più potente e interessante. Per creare le frasi personalizzate, premete su Amazon Alexa e nel menu qui in alto a sinistra, premete su routine. E vedete che un po' qualcosa è cambiato. Io, ad esempio, ho già creato alcune frasi personalizzate. Come si fa? Fate su in alto più. Su quando questo accade potete dire, ad esempio, voce, Alexa, sono a casa. Sono a casa. Salva. Devi dire, aggiungi un'azione. Alexa dice, vedete, c'è personalizzato. Ci premete e scrivete, bentornato. Sono felice di vederti nuovamente qui. Una volta che avete completato, fate su avanti. Avete visto massimo 250 caratteri. Fate aggiungi. Salva. E la routine è pronta. Avete già creato la vostra frase personalizzata. Vi faccio anche vedere che cosa hanno aggiunto. Hanno aggiunto la voce attendi. Qui in alto a destra attendi. Questo qui vi permetterà di aggiungere un ritardo, ad esempio, un'azione. Volete che alle 6 parte la sveglia, ma tra mezz'ora deve fare qualcos'altro. Potete farlo con questa nuova opzione. E stanno aggiungendo tante altre cose che, man mano, magari vedremo nei prossimi video. Come avete visto, è stata una cavolata. E il bello è che stavo registrando questo tutorial, questo video. E mi è arrivato pure questo pacco qui da Amazon. Che direi, dato che ci sono, non lo apriamo qua, chi se ne frega. Teo già me l'ha aperto, guardate. Per chi non lo sapesse, Teo è il mio coniglio. Mi ha già spaccato tutto il pacco. E che cosa riguarda questo prodotto? Non è così random qui. Perché è un ordine che ho fatto ieri. Dato che mi sta arrivando la lampadina di Xiaomi. Volevo mettere in questa scrivania, al posto di questa lampada, una lampada che mi permette di, appunto, mettere quelle lampadine smart. Già volendo posso mettere la lampadina, quella lì di Bawu, che vi ho recensito qualche video fa. E questo qui, non so neanche il nome di questa lampada. Ah, ok, c'è scritto sopra. Tomons. È una lampada particolare. Perché come vedete qua, io ho una stanza tutta in legno. Qua ci sono dei vari foglietti. E mi sa che questa è un'azienda pure tedesca. Dato che ho qua tutto il legno, ho detto, prendiamo una lampada in legno. Quasi quasi la monto e dopo ci salutiamo. Lampada montata, è carina. L'unica cosa è, guardate la lampadina che c'è. Possiamo noi, Alexiani, lasciare una lampadina così? No, dobbiamo metterne una smart. Infatti la vado a prendere subito. Ecco qui la lampadina di Bawu. Poi vedrò di mettere quella di Xiaomi quando mi arriverà. Accendiamo il tutto e vediamo... Oh, guardate già, si è impostata su blu. Ho riconfigurato il tutto con Alexa e vediamo se funziona. Accendi luce tavolo. Oh, finalmente, anche il mio tavolo dove ho il computer sarà smart. Cambia colore su verde luce del tavolo. Et voilà, perfetto. Vi devo dire la verità. Per una trentina di euro questa lampada ci sta. Il LED è di classe. Spero che il cavolo sia abbastanza lungo. In modo tale che vada dietro. Comunque mi sa che la questione Alexa sta un po' sfuggendo di mano. Se mi ricordo vi lascerò il link di questa lampada da tavolo. Che sinceramente per adesso mi sta piacendo. Rimanete aggiornati perché presto arriveranno video su altri dispositivi compatibili. Per il video vi sia stato utile. Qui sotto troverete il link per acquistare eventualmente qualche eco, la lampada e tutto il resto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!